bella a tutti ragazzi 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 siamo su un nuovissimo video di fortnite in questo gioco siamo con fabriano raccardi rocky bomber e zyko 009 che i primi due rocky bomber e zyko sono nuovi nel mio canale ma fabiano già lo conoscete già no io nel canale di fabiano sono molto conosciuto eh ma nel mio no quindi e se siete iscritti no quelli di fabiano che livello siete io ho 26 47 e vabbè perché io ho il 38 io ho 26 perché la giornata di natale fa schifo per questo e sono a livello avanti se hai capito i capelli neri a me come passa battaglia io non me lo voglio con me perché cosa di poter scegliere mi schifo mi schifo lei da solo a comprare un passaggio io non voglio so fare nessuno gioco e mi metti che ti dai altre cose a fabbio è lasciato no sarà uscito vabbè fabiano l'invito è fermo forse comunque non si vedo un po se è fermo oh il falò ho trovato uguale non è ancora non è ancora l'invito mi sta muovendo mi sta muovendo è invitato fabbiano entra fabbiano ma perché vuoi crashare così io a che non crescio più che mi sono scordato ora fabbiano è arrivato e vai ragazzi il notturno decide si va ma non si trova niente no ragazzi non si trova niente no ragazzi non si trova niente no ragazzi non arriva da nessuna parte non si trova niente ma non si trova niente non rompere va bene va bene qua c'è un tre colpi non trova niente però trova niente ragazzi se voi non lo sapete sono più bravo sono molto più bravo con le pistole che con le gallerie andiamo a vedere se qualcuno lo uccidiamo quindi poi quello che ho detto poco fa non ci crediamo mai ma quello che viene qui da me quindi ragazzi non mi date mai al mio assalto se state giocando con me perché mi uniremo pubblico vai 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 revolver io ti ho trovato un trem che vuoi che vieni Ale tieniti a me non serve in questo visto la pistolina silenziala tieni a me questo lo prendo la tricotta va schifo mamma mia compa li odio a me non serve perché si te l'ho dato non mi serve non ha senso tenerti compa tattico odico che ho detto raga andiamo Ale vieni con me la casa rossa Ale la casa rossa oh si aspetta raga io non ho niente a porto una pistolina blu e vieni con noi che dici si che non è comunque c'è niente no raga non vedo nessuno un attimo non vedo nessuno io sono andato al ponte raga vedete voi aspetta fabbi te lo do perché tanto non la fida attivo questo io cosa cecchino pulcino 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 ho sbagliato ho detto pulcino posso che cecchino sono un suono più italiana dove siete venite sono qua dove sei venite sono da solo ho pensato che con noi ma ti vieni perché a me mi fa così perché ragazzi se voi vedete che a me mi fa così non sono io che mi raga solo aspettatemi non spara ma perché non ti la faccio più questa cosa la stanno costruendo la stanno costruendo costruiscono da mattia infatti tipo sto correndo attenzione sono sul bel ponte appunto e non ce la faccio se pensiamo poi perdiamo tempo e non ce la faccio più questa ma ti penso io raga o di nemici che cosa pensi tu? ok ditemelo che fossero si staventino fai un pavimento fai un pavimento ma che serve il pavimento che tanto ci dobbiamo andare? ma che stiamo salendo perché stiamo prendendo le scaldi dovevano servire? vabbè raga devi senniare il suo tanto ok dai andiamo al magazzino andiamo al magazzino ma non ci sarà niente ormai al magazzino eh no tanto per nascondere ci dico eh non lo so fai Ale perché tipo ormai tutti vanno quasi tutti a pinnacoli pendenti esatto vanno tutti i pinnacoli e aspeglie snob perché abbiamo la possibilità di trovare qualcosa andiamo a provare vediamo che cibo io metto in mano la revolver che levo 54 quindi la manovra io in prima mi metto in mano la pistola con la verde io la revolver che levo la revolver secondo me ancora il luce è tutto sano per me anche comunque si chiude verso l'andeletali si chiude secondo me per me anche no ragazzi non vedo nessun loot proprio vediamo proviamo no ragazzi qua ci sono stati ci sono stati no qua non c'è nessun loot ragazzi qua ci hanno già costruito e quindi niente possiamo andarsene di gioco niente a posto e ce ne lo so per leggere uno so per tetto ah 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 dobbiamo dove 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 il tetto è sceso non so dove è andato è sceso non so dove è andato raga l'ho visto aveva tipo uno scarro non so non vedo nessuno non vedo nessuno ma non vedete bene in giro no vero ti giuro ti giuro ma chi io vi ho visto del fumo però pensavo che eravate voi no raga vi giuro raga io mi vedo il dino vede dentro la casa l'ho avvento niente è scappato fabio è scappato noi andiamo a seguire qual è il problema? non lo so guarda come muore Fabiano in diretta ma perché devi fare sempre bordello Fabiano? no dove vuole puoi fare? facciameli ammazzare più oltre di loro, quello è lupo, lo costruiamo! io faccio quello così facciameli ammazzare fa di loro che vuole fare il bordello per farti ammazzare? aspetta ragà aspetta mi arrivo tu un messaggio oh ragà ecco questa la mia probabilità di giù ah no che è mia cugina, è mia cugina, niente è mia cugina ecco le due 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 eccolo da la sono ce ne sono due bastardo malpita ha bastato una presa l'altra presa l'altra presa l'altra l'ho preso raga l'ho preso apposta messo giù ci non l'altro ha visto un altro lì sotto che stavo scappando che buon tardi allora amica si è andato l'ho visto passa, ancora là stiamo là cugina ce ne sono un altro team lì fai andiamo ormai ragazzi raga fai andiamo fai andiamo andiamo ora 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 che siamo due fai andiamo ora che sono due fai andiamo a costarti siiii vabbi dietro dietro da la da la sono da la raga andiamo dietro dietro sono dalla casa piccolina dai li ho visti curatemi curatemi anche a me stanno costretto anche loro raga raga attenzione raga attenzione attenzione tenete c'è delle postine ma guarda che se ne va ce n'è uno no dov'è matti ma dov'è raga ecco ecco davanti a noi davanti a noi 285 davanti a noi e matti fai da fai da vinci per noi ammazzato si si ucciso curami curami non ce la faccio l'altro l'altro cecchina dai avanti avanti costruisci costruisci mattino spi raga raga fai mi costruisci costruisci allora costruisci ecco 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 subito matti mattini qua è io che falla che non ti può prendere niente bambi vieni bambi vieni le munizioni sono finite si ma te ma guardami che cazzo no ma abbiamo ne sei due sei morto erano quattro ne ammassi di tre si però dai che non fa costruire non mi faceva mettere niente come ti curavo che c'erano quelli vabbè è uscito vabbè dai raga se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale di Fabiano Raccardi Manfilti, Mattia Wolf e Samina Tamaro se il video vi è piaciuto lasciate un bel like